segui la sette anche su instagram la 7 ovunque con te senta a questo proposito parliamo di programmi si è esatto anche anche queste cose fanno parte di questo politico è senza altro però allora nel 2018 il movimento 5 stelle oltre tutto il resto vinse le elezioni 32 per cento principalmente con la proposta del reddito di cittadinanza quattro anni e mezzo dopo vi presentate ancora come gli alfieri del reddito di cittadinanza per per supportarlo per preservarlo contro chi lo vuole togliere o lo vuole modificare e per dire se mai lo miglioriamo diamo per scontate le argomentazioni che abbiamo sentito tutta la campagna elettorale per il reddito di cittadinanza in continuità peraltro con la storia del movimento ma a parte questo quali sono le altre proposte perché quello che si è detto anche negli anni cruciali di questa legislatura è è finito il repertorio hanno fatto reddito di cittadinanza non hanno cose nuove da portare lei cosa risponde coi fatti rispondo in questi termini secondo lei direttore i bisogni reali di famiglie cittadini imprese sono finiti qui con reddito di cittadinanza sono aumentati sono aumentati e secondo lei c'è ancora più necessità di una forza politica innovatrice che trasformi meglio questo paese migliore la qualità di vita dei cittadini è quello che tutti se ne promettono di fare a parole però io noi abbiamo un articolato programma che non è ovviamente fatto condito da progetti mirabolanti ma da promesse realizzabili finanziariamente sostenibili faccio qualche innanzitutto per intervenire sulla ristrutturazione mercato di lavoro non più buste paga la fame due tre quattro euro lordi ma nove euro lordi salario minimo legale dobbiamo dire stop al precariato selvaggio la maggior parte dei contratti addirittura durano un giorno superano 30 giorni ancora taglio del curio fiscale perché oggi il cedo medio dei lavoratori si è ormai impoverito quindi due terzi lavoratori un terzo alle imprese la prospettiva nuova è riduzione del tempo di lavoro in tutti i paesi noi lavoriamo di più e produciamo di meno abbiamo un un progetto sperimentale per portare a 35 ore da 40 nei settori di maggior impatto tecnologico a parità salariale e dimostreremo che la produttività non ne risenta uno mi dica no dovrebbe aumentare la produttività come se si aumenta vede aumenta perché aumenta perché chiaramente il tempo libero uno riesce ad usare meglio il tempo libero gli affetti la partecipazione eccetera e quindi lavorando ovviamente dobbiamo continuare a intervenire per gli altri tasselli che contribuiscono alla produttività migliorare la burocrazia informatizzare la burocrazia i tempi della giustizia e via discorrendo per quanto riguarda le altre riforme guardi è importante anche tener conto dei pensionati oggi pensionati le pensioni sono molto basse dobbiamo migliorare quelle dell'invalidio civile in particolare ma un po tutti i pensionati io non posso dire oggi e non posso promettere l'irrealizzabile cioè di portare tutte le pensioni quelle più basse a mille euro è una riforma che costa 30 miliardi non ci sono non è possibile però noi possiamo detassare tutte le pensioni fino a mille euro alziamo la soglia di detassazione quindi fino a mille euro concretamente i pensionati che ci seguono potranno avere ancora di più più pesante la loro pensione di 50 100 150 180 euro e poi se mi permette c'è una riforma importante quello del cash per fiscale draghi ha fatto un condono fiscale ha esordito con questo governo e poi ha cancellato quel cashback in realtà quello è uno strumento essenziale per contrastare l'economia sommersa e quindi per contrastare anche l'evasione noi vogliamo applicare il cashback fiscale adesso una versione sofisticata per le spese sanitarie veterinari e che significa riaccredito immediato sul conto corrente dello sconto che facciamo e lo estendiamo guardi in questo momento ci sono due milioni di rapporti di famiglie che hanno contratti o rapporti con colfe badanti un milione sono dichiarati opinione sono in nero se noi offriamo la possibilità di una deduzione dei contributi sino al 50 per cento offriamo alle famiglie la possibilità veramente un grande incentivo per portare l'emersione l'emersione dal nero esatto questi rapporti costa 300 milioni abbiamo studiato questa riforma glielo dico qui in anteprima guardi è una notizia ci siamo riservati un paio d'ore non avrebbe potuto più dire ci siamo riservati perché in questi giorni ci abbiamo ancora lavorato volevo essere sicuro che potesse essere un impegno da mantenere allora possiamo mantenere perché questi 300 milioni in qualche modo saranno anche compensati dall'emersione dal maggior gettito in più lei sa che esiste un libretto di famiglia presso lì con l'inps dove ci sono dei voucher da 10 euro dei voucher digitali e questo serve alle famiglie per avere delle prestazioni agevolarsi di prestazioni con babysitter giardinieri anche i professori che fanno ripetizioni ai nostri figli noi vogliamo estendere questo li vogliamo stendere anche i lavoratori autonomi che fanno prestazioni occasionali l'idraulico l'artigiano che viene a casa e piccoli lavori questo ci consentirà di avere un taglio del 50 per cento della spesa il tutto ovviamente col cash per fiscale è un grande vantaggio per l'emersione del nero è un grande vantaggio per le famiglie perché significa dimezzamento al 50 per cento dei costi l'ho passata tutto perché era era una novità no è un'assoluta novità una novità la fermo prima che tiri fuori le pentole perché sembrava che sto scherzando sto scherzando però però è interessante la sua battuta per una cosa seria e io le sto quantificando l'una 300 milioni l'altra seconda l'incirca 30 milioni quindi sono cose si autofinanziano con l'emersione dal nero questo è chiarissimo no no quello è evidente senta stavo parlando di pentole direttore guardi che anche le pentole servono ma le pentole non è inappetente o le prove senta non si è contento io non sono contento affatto sono contento perché l'ha potuta dire ha detto le posso dire una cosa rispetto a prima ma le è Grazie.